Non hai ancora imparato la lezione, vero, Mal? Tu sull'isola ormai non sei più la benvenuta. Su serio? E chi sei tu, per dirlo, eh? Mister gancio di latta. No, lui si chiama Harry. Ah, sì, ci sono, ti riferivi all'uncino. Molto carina, Mal. Grazie, mi vengono naturali. Sai, non sei forte quanto pensi, Mal. A ridere per ultima sarà Uma. Ah, non vorrei essere te in questo momento. Io non vorrei mai essere lei. Perché credi che oggi non andrà come tutte le altre volte che ti ho sconfitto, eh? Quelle erano miserie battaglie. Qui c'è una guerra in ballo. E da questa guerra io uscirò vincitrice. Avrò tutto. L'isola, Oradon. E te, principessa. Sono venuta a prenderti, Mal. No! Davvero? Ma sarò io a prendere te.